4-0 al sesto campano, partita sotto controllo, doppietta di Cascio, gol in Flores e poi allo scadere il giovane del bianco. Una partita che l'Isernia ha voluto vincere per iniziare nel migliore dei modi anche il nuovo anno. Sì, oggi è stata una partita difficilissima. Al primo tempo abbiamo contato grosse difficoltà contro una squadra ben allenata, ben messa in campo, con gente brava, tecnicamente soprattutto avanti. Non ho mai visto la migliaia difensiva soffrire così l'uno contro uno. Oggi veramente è stata una partita durissima, lo sapevamo, però siamo stati bravi a gestire i momenti della partita, a giocare anche le partite che ci stanno nell'arco di una partita, quindi a interpretare bene i momenti e alla fine penso che sia meritatissima la vittoria. Una squadra che sui campi in sintetico riesce ad esprimersi molto bene, quindi segno evidente della bontà anche del gioco, ma soprattutto anche della tecnica individuale dei giocatori. Sì, è normale che per fare un buon calcio a tutti i livelli c'è bisogno di una superficie su cui il pallone scorra e scorra veloce. Noi abbiamo queste caratteristiche, quindi per noi è necessario avere un campo nelle migliori condizioni, anche se poi, ripeto, anche quando siamo andati su campi un po' più ostici, magari in erba, magari qualche momento abbiamo sofferto, però la nostra partita l'abbiamo sempre fatta al meglio, quindi anche in quel di Boiano abbiamo ottenuto una grande vittoria. Quindi sì, è chiaro che la superficie di gioco è un aspetto per noi importante. Ci sono stati anche degli irriducibili tifosi che sono stati in campagna all'aperto a gridare la caporista se ne va? No, a parte che non se n'è andata purtroppo, però i tifosi che vengono, anche noi, io almeno e tutto il gruppo, li ringraziamo sempre per la loro vicinanza e per il loro affetto e il loro calore. Certo è che mi permetto di dire che non si capisce, non si comprende come mai ci siano tutte queste squadre che giocano a porte chiuse, perché veramente è un'offesa al calcio. Se leviamo anche la possibilità, nei nostri piccoli centri, che comunque forse la partita della domenica è l'unico momento di svago, ci viene tolta anche questa gioia, penso che una riflessione debba essere fatta. Grazie.